Il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali è sito nella palazzina Samoggia, in piazza Santa Croce in Gerusalemme, con accesso a fianco della chiesa di Santa Croce in Gerusalemme. Tra quanti si sono dedicati alla raccolta degli strumenti musicali, vi sono Atanasius Kircher ed Evan Gorga. Il collezionista gesuita Kircher pare che sia anche stato un esperto di organologia, poi con l'arrivo dei piemontesi a Roma la collezione Kircher fu purtroppo dispersa. Invece il Gorga ebbe dei problemi economici e di spazio, tuttavia gli rimasero circa 3.000 pezzi stipati in 10 appartamenti di via Cola di Rienzo 285 a Roma e successivamente entrarono come possedimento dello Stato italiano il 27 settembre 1949, quando lo Stato stesso si impegnò a pagare i debiti di Gorga. Gli strumenti musicali erano ad ogni modo solo una delle 30 collezioni con più di 150.000 pezzi della raccolta Gorga, privi in origine di una propria sede di esposizione. Inoltre, tra le altre collezioni di Gorga, non presenti nel museo perché non pertinenti, sono da citare giocattoli, terrecotte, farmaci da viaggio, ferri chirurgici e bilance. La sede per gli strumenti musicali all'inizio fu un problema, ma fu in seguito trovata mediante l'interessamento della professoressa Luisa Cervelli, la quale si batte anche per il restauro e la catalogazione sistematica. In seguito acquisì vari altri strumenti, tra cui l'arpa Barberini, il pianoforte di Bartolomeo Cristofori, i cornamuti cinquecenteschi di Weyer, il claviciterio. Attraverso gli strumenti musicali, il museo offre la possibilità di ripercorrere la storia della musica dell'antichità e nel percorso è possibile prendere coscienza di come i diversi strumenti musicali si sono evoluti e modificati. Grazie.